Bene, sono contento. Abbiamo definito anche tutti gli ultimi dettagli, fiori, torta, confetti. Enzo, sono aggistatissima. Ma no, non vorrei mica arrivare all'altare con un viso stanco e affaticato, eh. Enzo, non hai qualche consiglio da darle? Ne ho uno che vale per dieci. Un trattamento d'urto di Vichy per una pelle da favola in solo dieci giorni. E vale anche per mamma, damigella e per tutti gli invitati. Scopri il nuovo Lift Active concentrato fresco antiossidante e antifatica di Vichy con attivi naturali e vitamina C. Poche gocce ogni mattina per ridurre i segni della stanchezza, levigare le rughe, rendere la pelle uniforme, tonica e compatta in dieci giorni. Ragazzi, siete radiosi stamattina. È tutto merito dei tuoi consigli. Grazie, anche se io non ho chiuso occhio. Davvero? Ma non si direbbe, sai? Dai, adesso continuiamo con i preparativi, non voglio far rispettare troppo lo sposo. Lift Active concentrato fresco. L'antidoto alla stanchezza per la tua pelle. In farmacia da Vichy.